Presidente, 7,7 miliardi di euro, tanto vale l'agricoltura veneta, mi sembra un buon traguardo. Decisamente sì, è la seconda agricoltura in Italia e lo dobbiamo queste 83.500 aziende, se contiamo le teste, le partite IVA, dell'agricoltura del Veneto che ci dicono che l'agricoltura media, considerato che abbiamo 835.000 ettari, ci dicono che mediamente è un'agricoltura che si è trasformata, ha visto delle cessazioni ma ha visto anche ingrandirsi l'azienda agricola media che è arrivata a 10 ettari di superficie. Poi ci sono alcune locomotive come la VTV Inicoltura che raggiunge livelli veramente molto alti. Si considera che nel contesto dei 350 prodotti tipici del Veneto, poi la parte del Leone la fa il vino, il vino che è rappresentato da circa 11 milioni di ettoltri, oltre 55 denominazioni, siamo i primi in Italia per produzione di vini e siamo l'Italia primo produttore mondiale. Si considera che tra le 55 denominazioni ce n'è una che è la più grande denominazione del mondo, che è quella del prosecco che ovviamente oggi rappresenta il grande apipista, il grande biglietto da visita, visto considerato che una bottiglia di bollicine su tre nel mondo è di prosecco. E poi ci sono i giovani che stanno entrando in agricoltura in maniera preponderante. Ne abbiamo anche significativamente delle dimostrazioni, basti pensare che il biologico cresce a due cifre anche quest'anno e questo è merito di molti giovani che entrano in agricoltura. Giovani peraltro che portano innovazione, basterebbe citare l'Oscar Green di Coltiretti per capire ogni anno quanta innovazione dai giovani agricoltori del Veneto, ma non solo, venga portata in agricoltura. Non è un caso che anche oggi si parli ancora di agricoltura 4.0, peraltro fra l'altro anche superata da innovazioni estreme che sono quelle, ad esempio, dei robot che con la guida autonoma in azienda agricola, che sono quelli della georeferenziazione e molto altro ancora. Quindi i giovani in agricoltura sono un'assicurazione per la vita, non solo per la continuità dell'attività agricola, ma anche e soprattutto per l'innovazione. E a proposito di innovazione, a maggio a Venezia ci sarà Space Venice, un'altra fiera molto importante per la nostra regione? Beh, quella è la sublimazione di tutto quello che è l'innovazione, quindi di fatto con questa fiera, con queste iniziative si va definitivamente a celebrare il funerale di quello che è l'agricoltura, che è il mondo analogico in generale e si va ovviamente a dare, direi, diploma di maturità, non certificato di nascita a quello che è l'agricoltura e l'ambiente digitale che ormai lambisce tutte le nostre vite.